595 le persone controllate, 51 gli esercizi commerciali, continuo il lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta per la prevenzione del contagio da Covid-19, 8 sono state le persone sanzionate e 2 i bar multati. I due bar si trovano a Vallelunghe Aldelia e comunque continuavano a servire delle bevande all'interno degli esercizi commerciali. Le 8 persone che sono state sanzionate sono state tutte persone che erano utenti dei vari esercizi commerciali.